È pressoché terminato l'intervento di ripristino tecnologico e risanamento strutturale del Ponte Assi. Iniziato il 4 marzo 2019, richiedendo un investimento di 700.000 euro, l'intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza del manufatto e quindi per le oncolumità pubblica, inserito in una programmata e già avviata attività di monitoraggio di tutti i ponti, che comprende prove di carico, manutenzioni e adeguamenti. Ricordiamo che il 9 luglio era iniziata la seconda fase dei lavori sul Ponte Assi della Ravegnana, che aveva previsto la chiusura totale al traffico, dopo che nei mesi scorsi era stato momentaneamente introdotto il senso unico percorribile in direzione Ravenna. È quindi iniziata questa mattina la fase conclusiva del ripristino completo del manufatto, ovvero quella delle prove di collaudo al Ponte Assi, alle porte di Ravenna. Le esecuzioni delle prove di carico sono finalizzate al rilascio del certificato di transitabilità del ponte. Lo scopo delle prove di carico è quello di misurare il comportamento della struttura sottoposta ad enormi pesi. Dopo una prima fase definita riscaldamento, i mezzi pesanti vengono posizionati a coppie di due incolonnati e attraverso varie procedure si misura il comportamento dell'infrastruttura. I risultati della prova di carico verranno elaborati e qualora le misurazioni restituissero riscontri positivi, il ponte, a firma del collaudatore statico, potrà essere riaperto presumibilmente entro il 4 novembre, nel pieno rispetto del limite contrattuale del 12 novembre. Grazie al nuovo ripristino della funzionalità del Ponte Assi, sarà possibile togliere le limitazioni di portata a 40 tonnellate. I cordoli continui che sorreggevano il guardrail sono stati tagliati al fine di sostituire gli appoggi delle travi. A completamento dell'opera sono stati rifatti il sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, la ripavimentazione stradale e sono stati sostituiti i guardrail.